Ai microfoni Matthew Torgard, post gara del Gran Premio del Brasile di Formula 1, un Gran Premio del Brasile dove è veramente successo di ogni, basti vedere il podio, vittoria di Max Verstappen, secondo Pierre Gasly con la Toro Rosso e terzo, ne parliamo dopo del terzo perché è successo veramente cose. Gran Premio del Brasile, veramente a due facce, dopo la partenza veramente concitata, il primo Varsa dei P-Stop per 30 giri non succede praticamente niente nella pistina di Interlagos che vedete in sovrimpressione, dal 52esimo giro in poi però fino al 71esimo succede veramente di tutto con ritiri, episodi tanto discussi, soprattutto per quanto riguarda la Ferrari che di fatto si auto elimina e di fatto una vittoria spianata per Max Verstappen che in realtà non è dovuto all'incendio della Ferrari ma al suo enorme passo gara. Max Verstappen dopo aver fatto la pole position in qualificazione si aggiudica il Gran Premio del Brasile, Gran Premio che per la verità ha dominato, la Red Bull in generale sembrava veramente la macchina da battere in questo Gran Premio, è anche vero che Lewis Hamilton non ne aveva e dunque già lottare con la Red Bull per il pilota inglese era un successone. È successo veramente di tutto soprattutto per quanto riguarda la partenza e ovviamente l'arrivo. Andiamo a vedere la partenza di cui qui vediamo un fotogramma, questo è uno dei momenti più importanti dove Hamilton parte dietro Vettel che era finito secondo in qualificazione con Verstappen ovviamente i per primo, Hamilton sorpassa all'esterno la curva di Senna Sebastian Vettel e prosegue poi nella sua marcia. La marcia di Verstappen che è primo, iper primo, stra primo procede fino addirittura al waltzer dei secondi pitstop, una pista quella di Interlagos dove evidentemente si andava su due soste e causa appunto la scarsità della gomma bianca messa tra l'altro da Bottas e Leclerc ma è durata veramente poco. La strategia perfetta in realtà era gomma rossa all'inizio e gomma gialla e poi di nuovo gomma rossa. I piloti si avviamano verso una strategia di due soste Ferrari compresa tranne quando arriviamo al giro numero 52 dove la Mercedes che vedete lì dietro quella di Valtteri Bottas ha un problema al motore e deve dunque abdicare alla gara. E quindi Bottas viene escluso dalla classifica, si ritira, Safety Car, giro numero 52. Da qui in poi assisteremo ai 20 giri più incredibili del 2019 motoristico perché gli ultimi 20 giri renderanno questo GP del Brasile veramente clamoroso e veramente se siete stati deboli di cuore avete visto il Gran Premio del Brasile come ho fatto io, veramente di emozioni ne avrete provate tante, di belle se siete tifosi di altre scuderie e di brutte per quanto riguarda l'essere tifosi della Ferrari. E arriviamo a questo episodio tanto discusso perché ancora una volta la Ferrari la combina grossa, non è un errore del muretto stavolta metterci di mezzo ma sono effettivamente entrambi i piloti. In particolar modo il tedesco che vedete sulla macchina numero 5. Vettel soprattutto nell'ultimo terzo di gara non ne aveva più, si è fatto passare all'esterno da Alexander Albon che stava facendo la gara della vita, pilota del giorno per me mani bassa Alexander Albon e tra poco vi spiego anche perché. Aveva anche problemi a tenere dietro Leclerc, a un certo punto i due piloti Ferrari arrivano al contatto di cui vediamo il fotogramma finale. Leclerc aveva superato Vettel alla curva di Senna e il retinio successivo è uno dei pochi punti dove il Brasile effettivamente consente il sorpasso. Contatto clamoroso tra Vettel e Leclerc, entrambi i piloti finiscono per le terre, di conseguenza safety car e gara finita per le due Ferrari. Dal mio punto di vista è colpa di Vettel che ancora una volta ha dimostrato di avere poca pazienza. Già Vettel nell'ultima fase del Gran Premio oggettivamente ne aveva poco, ha subito veramente sorpassi in verecondi, nonché sorpassi più incredibili, soprattutto quello di Albon in esterno alla curva della Senna, veramente un sorpasso veramente clamoroso. Voleva sorpassare immediatamente Leclerc. Il tedesco va a stringere il monegasco in mezzo alla pista, contatto inevitabile, foratura per entrambi i piloti. Come vedete la gomma anteriore destra di Leclerc si stacca subito, si spezza anche l'alettone. Poi nel contatto si verrà anche a forare la gomma posteriore sinistra del tedesco che dunque dovrà abbandonare la competizione. Qui vedete l'evidente frustrazione del quattro volte campione del mondo tedesco. Safety car, incredibile, i valori in campo si rimescono, nel frattempo anche Hamilton perde potenza con le gomme e deve rientrare forzatamente ai box. Fatto sta che ci ritroviamo a vedere delle cose incredibili con quest'uomo, Max Verstappen, che nel frattempo è sempre stato primo per la maggior parte della gara, ha superato anche Hamilton in pista, segno che la Red Bull in questa pista ne aveva veramente di più rispetto a una Mercedes che sembrava veramente la brutta copia di se stessa. Anche Alexander Albon a un certo punto sembrava veramente un pilota di altissimo livello, con sorpassi all'esterno su Vettel e un passo gara veramente incredibile. Si stava coronando il seno della doppietta. Hamilton a un certo punto rientra in box, vi dicevo, nell'ultima safety car. Sorpassa Gasly, che si ritrova incredibilmente in zona podio, arriva a contatto con Alexander Albon nella penultima curva, di fatto, del penultimo giro. Contatto incredibile tra Alexander Albon e Lewis Hamilton. Alexander Albon si gira per colpa di Lewis Hamilton, che evidentemente non chiude la porta, e dunque strada spianata agli outsider incredibili per il podio. Per la verità Hamilton a podio ci finisce ufficialmente perché, ok, clamoroso Pierre Gasly secondo in arrivo e Hamilton finisce terzo. Il contatto però viene visto dai commissari, viene dato una penalizzazione di 5 secondi e dunque, signori, qui fatemi concedere il mio personale momento da tifoso perché è anni che sto soffrendo in silenzio e finalmente posso godere anche delle sventure altrui, delle penalizzazioni, ma fatto sta che Hamilton finisce settimo, penalizzato di 5 secondi. Giù dal podio, a podio, ci finisce Carlos Sainz Jr. con il numero 55 della McLaren. Finalmente una McLaren torna sul podio dopo tempo in memore, se non sbaglio l'ultima podio della McLaren fu con Button e Magnussen, se non sbaglio, ma parliamo di veramente anni indietro. Gli anni col motore Honda sono stati anni dove ho sofferto veramente in silenzio, col motore Renault abbiamo fatto una squadra in crescita. Carlos Sainz sfruttando la posizione di trovarsi lì, le Ferrari che gli sono auto eliminate e Hamilton che viene penalizzato finisce sul podio in un gran premio veramente rocambolesco che vede sì un Verstappen incredibile vincitore che sale a 260 punti nel campionato mondiale, ma soprattutto vede un Pierre Gasly secondo che con la Toro Rosso riesce a fare incredibilmente meglio di quando era in Red Bull fino a metà della stagione. Incredibile il fatto che comunque Gasly ha sfruttato i momenti importanti per cui poteva essere lì. Podio di Gasly, robe inarrabili, tra l'altro podio in volata perché ovviamente al traguardo Hamilton è arrivato terzo, ma nel frattempo Hamilton ovviamente col contatto con Albon cosa fa? Danneggia l'alettone anteriore e ovviamente ha ancora meno potenza del solito. Cosa succede? Che c'è una incredibile volata tra Hamilton e Gasly, torno a ripetere Hamilton e Gasly, e Hamilton perde in volata con il semidebuttante Pierre Gasly, cose veramente inenarrabili. È un gran premio sui generis che dal 52esimo giro in poi è degenerato dal ritiro di Bottas all'auloto eliminazione delle due Ferrari che ancora una volta ne combinano più di Carlo in Francia, dal contatto a Hamilton e Albon che per me meritava il podio. Anche Alexander Albon è, al di là del 14 posto finale, il driver del giorno perché ha fatto un sorpasso veramente incredibile su Sebastian Vettel, aveva una Red Bull veramente competitiva, sorpasso su Vettel ragazzi da vedere e rivedere, sorpasso al S di Senna in esterna con anche le ruote sull'erba quasi per metà pista, per metà macchina, scusatemi. E poi ha passato il quattro volte a campione del mondo con un sorpasso veramente degno di questo nome. Albon da quando è arrivato in Red Bull ha dimostrato la crescita il podio thailandese, potrà essere un'ottima seconda guida per il 2020, tanto è vero che sia la Red Bull sia la Toro Rosso hanno confermato tutti e quattro i piloti ed è una clamorosa doppietta Honda quella di cui stiamo parlando perché sia la Red Bull sia la Toro Rosso montano motore Honda. Toro Rosso che tra l'altro si chiamerà Alfa Tauri l'anno prossimo, il 2020 per ragione di sponsor. Carlos Sainz Jr mi fa godere da tifoso McLaren e prende un podio estemporaneo, fortunato quello che volete, ma è comunque podio dopo veramente tempo in memore, le delusioni sono ovviamente nei ritirati perché la Ferrari si è autoeliminata, Leclerc e Fetter sono finiti il diciottesimo e diciassettesimo su un errore prevalentemente del tedesco che per ancora una volta, secondo me, problemi di nervi non è riuscito a gestire il momento del sorpasso subito dal monegasco Charles Leclerc che comunque in questo caso era sempre stato dietro per tutta la gara, era partito quattordicesimo, il monegasco con gomme diverse, i Ferrari si sono ritrovati a lottare causa la safety car di Bottas però Fetter in questo caso sbagliato e ancora una volta pecca di troppo poco, come dire, tenuta di testa evidentemente ed è un peccato perché partiamo comunque di un quattro volte campione del mondo che qui evidentemente ha danneggiato la gara di entrambi i Ferrari e questo danneggiamento delle Ferrari ha causato risultati incredibili il podio di Gasly, il terzo posto di Sainz, quarta e quinta le due Alfa Romeo con il venerabile maestro Kimi Raikkonen, quarto e soprattutto Antonio Giovinazzi, quinto, fresco di rinnovo per l'anno prossimo sempre con Alfa Romeo è un miglior risultato in carriera quello di Giovinazzi, veramente in questo caso come gli altri risultati furtuiti pound for pound, il nono posto in Italia, secondo me risulta il miglior piazzamento in carriera del pilota pugliese che comunque mette il sigillo nella settimana in cui è stato appunto rinnovato il contratto un gran premio veramente di tutto che ha visto tanti piloti coinvolti tranne quest'uomo Max Verstappen che va a vincere la terza gara stagionale e dunque per la terza volta suona Heltville, il musselino nazionale olandese Verstappen in questa pista ne aveva veramente di più anche Hamilton aveva fatto una fatica incredibile a tenerlo e non ne aveva veramente più c'è stato un punto del gran premio in cui Hamilton era davanti a Verstappen su una ripartenza di virtual safety car Verstappen poi in due giri gli ha dato una roba come due secondi, segno che su questa pista una pistina meglio dove la Red Bull evidentemente era favorita sia per costruzione della macchina sia perché il Brasile a parte le prime due curve e il rettilineo dopo la chicane non ha appunto concesso tante velocità e ha una pista fondamentalmente di telaio con tutte curve e poche accelerazioni una macchina come la Honda in questo caso era ovviamente favorita, Red Bull Honda ovviamente clamoroso doppietta Honda in questo GP del Brasile per fortuna il mondiale era già stato assegnato con Hamilton che ha vinto il sesto titolo se il gran premio post mondiale è questo figuriamoci da Budap il primo dicembre che cosa ci possiamo aspettare? il gran premio evidentemente è condizionato da vari ritiri Bottas in primis, le due Ferrari in secundis ripeto per me è colpa di Vettel e anche qui voi tifosi Ferrari che guarderete mai questo video aspetto con attenzione le vostre opinioni qualora ce ne saranno sotto questo video reputo la vettoria di Verstappen comunque ipermeritata Hamilton finisce settimo giustamente per questo contatto con Alexander Albon che ci ha privato del sogno del primo podio thailandese in Formula 1 vedremo se il buon Albon riuscirà a confermarsi su comunque buonissimi livelli del gran premio successivo ad Abu Dhabi il primo dicembre di cui ovviamente ci sarà l'ultimo Racing Podcast stagionale il saluto da parte di Matthew Thorgaard è stato un Racing Podcast anche in parte da tifoso in quanto Carlos Sainz ha fatto podio ci vediamo comunque la prossima settimana con nuovi video sempre sul canale sportivo